partiti allora questa è la seconda giornata c'è la sarebbe il terzo giorno di lavori solo che il secondo giorno non abbiamo fatto il video quindi recuperiamo allora vi dico questa è la monnezza che abbiamo recuperato allora nel primo video abbiamo fatto vedere che abbiamo fatto questo qui abbiamo accumulato l'erba e questo è per assodato ora quello che è stato fatto nel secondo giorno è stato tagliare tutta l'erba che c'era qui bordo 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 monumento abbiamo iniziato ad aggredire questa questo questa pianta qui abbiamo tagliato l'erba qui abbiamo tagliato tutto qui sotto vedete tutto qui sotto il lavoro del di oggi invece di stamattina domenica è stato iniziare ad aggredire questo angolo a buttare per terra si capisce l'entità del lavoro perché sono tre in tre metri da qui alle cancellate abbiamo iniziato a tagliare tutto e ad accumulare qui sotto così che se lo viene a rimuovere l'ha detto con la con la gru con la pala meccanica quello che c'ha infatti suoi abbiamo pulito differenziato soprattutto l'immondizia che c'era in questo lato se vi ricordate che era una cosa di obbrioso abbiamo rimosso differenziato bonificato abbiamo accumulato tutto tutti i rovi a bordo a bordo delle delle recensioni così il mezzo meccanico può più facilmente rimuoverle questo è stato completamente ripulito è uscito fuori questo gabbuzzino e quindi questo è questo è il lavoro della di oggi di domenica insieme a quello di ieri di sabato mattina buona domenica a tutti buon pranzo e i lavori continueranno per perché comunque c'è ancora da fare anche la settimana prossima poi vi daremo aggiornati su come organizzeremo le giornate di lavoro buona domenica e buon pranzo